Ciao a tutti e bentornati a una nuova puntata di Zoom Review. Oggi vogliamo presentare il casco integrale NOS NS10 nella versione Fastback Italy Met. Ma prima di conoscerlo nel dettaglio, come sempre, la nostra sigla. Parto subito nel fornirvi alcune informazioni sul marchio NOS. Alcuni di voi già lo conosceranno, ma merita una veloce overview. NOS Helmet nasce con l'intento di inserirsi tra i numerosi brand già affermati nel mondo delle due ruote, per offrire un prodotto di fascia medio-alta, ma con le caratteristiche di un casco top di gamma racing. Dietro le quinte di NOS Helmet troviamo Bell Racing, azienda modenese già fortemente affermata nella produzione di caschi, con un'esperienza alle spalle pensate di ben 30 anni. Vediamo ora le caratteristiche di questo NOS NS10. Si tratta di un casco integrale ad uso sportivo. La calotta esterna è realizzata in HR Polymer Composite, un materiale termoplastico durevole e di qualità. La sicurezza viene prima di tutto. Infatti, per una maggiore adattabilità alla fisionomia del capo, sono disponibili due differenti misure della calotta. Passiamo alla visiera. Troviamo una visiera Racing 2D a sgancio rapido, con trattamento antigraffio e che offre una buona visibilità di campo una volta indossato. Inoltre, nelle giornate particolarmente soleggiate, si può utilizzare il visierino parasole oscurante, con trattamento anti-scratch, azionabile tramite la commedale vetta posta sul lato del casco. Per quanto riguarda la ventilazione, abbiamo una presa d'aria sulla mentoniera, tre sopra il capo e un estrattore posteriore. La combinazione offre una buona ventilazione lungo tutta la testa. Gli interni sono del tutto removibili e lavabili, realizzati in dry and fresh, un tessuto traspirante e antimicrobico. I guanciali sono perfettamente estraibili grazie al sistema Emergency Pool e all'interno troviamo ampio spazio per alloggiare il sistema Interfono. La calotta interna è realizzata in EPS a doppia densità, con tre differenti misure. Questo ci permette di trovare una buona aderenza e una maggiore stabilità durante l'utilizzo del casco. La chiusura in acciaio è con regolazione micrometrica. Tutti i caschi NOS sono realizzati artigianalmente e questo lo si può notare all'interno del casco, per esempio in queste cuciture realizzate completamente a mano, che denotano la cura e l'attenzione del dettaglio nella realizzazione di questi caschi. Vi ho raccontato delle sue caratteristiche tecniche, ma ora veniamo all'aspetto che più ci colpisce, la grafica. Come abbiamo detto all'inizio del video, si tratta della colorazione Fastback Italy Matte, dove il tricolore italiano viene valorizzato da queste linee dinamiche lungo tutto il casco. Come quasi sempre, prima di provare un prodotto mi piace testarlo. Ho potuto provare il casco durante un lungo viaggio in tratti autostradali e cittadini. Quello che mi ha colpito è stato il comfort e la buona aderenza anche quando si viaggia a velocità sostenute in autostrada. Indossandolo per molte ore, il casco mantiene un buon comfort e una buona ventilazione. Solo in alcune occasioni ho percepito del rumore dovuto dall'aria, ma assolutamente in forma lieve. Il casco è molto leggero, ha un peso di 1600 grammi. Questo lo si avverte una volta indossato. La visiera offre un buon campo di visibilità e non ho mai riscontrato nessun tipo di appannamento, neanche durante un forte acquazzone in autostrada per qualche chilometro. La chiusura micrometrica permette una regolazione ottimale ed è facilissima da sganciare. Personalmente avrei preferito ci fosse stata una versione anche con chiusura a doppio anello. Come ultima cosa il prezzo. Nosso NS10 nella versione Fastback Italy Met ha un prezzo di listino di 189 euro ed è possibile acquistarlo online sul sito Ben Racing che trovate qui sotto. Sperando di essere stati esaurienti, come sempre se vi è piaciuto il video spolliciate, iscrivetevi al canale e seguiteci sui social. Noi ci vediamo in moto e ben protetti. Ciao nella prossima puntata di Zoom Review.